Ci sono novità per quanto riguarda le liti tra contribuenti e fisco. Infatti la Commissione Finanze del Senato sta lavorando in modo particolare affinché per le micro liti, cioè quelle fino a 3.000 euro, ci sia la possibilità anche di un controricorso da parte del contribuente, ma non soltanto si invertirà anche l'onere della prova che fino ad oggi era a carico del contribuente, invece dovrà essere a carico dell'amministrazione finanziaria. Finanze del Senato